L'onore e onore di concludere il convegno al Presidente del Comitato dei Garanti per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, Onorevole Professor Giuliano Amato. Grazie Presidente e grazie a voi che siete qua, ma devo ringraziare in particolare chi ha organizzato questo viaggio che oggi inizia ed è stato in realtà Roberto Garofoli insieme ad altri. Quindi avviando un lavoro che è di assoluta pertinenza rispetto al 150esimo e di non usuale utilità rispetto ai fini che una celebrazione come questa deve perseguire. La prima ragione è perché utilizza la celebrazione per guardare al futuro e non per fermarsi soltanto sulle vestigia del passato. La celebrazione dell'unità nazionale per noi deve significare cogliere ciò che in quel processo è avvenuto per costruire un futuro nazionale e quindi per consegnare a noi una responsabilità alla quale non assolviamo tornando a ciò che fu fatto 150 anni fa soltanto ma traendone motivo per capire cosa tocca a noi fare. E quindi questo viaggio in Italia all'insegna dell'eguaglianza è come dice lo stesso De Prian che abbiamo fra di noi a confronto con la classe dirigente del 2020. Cioè questo è rivolto non a coloro che usualmente si trovano con fascia tricolore attorno ai monumenti, ora di Mazzini, ora di Garibaldi, ora di eroi locali, ma a coloro che sono il domani del Paese. Per dire una frase banale ma profondamente vera. Il secondo motivo è perché questo viaggio sull'unità con la classe dirigente del 2020 vuole avvenire all'insegna del recupero di principi fondamentali della convivenza civile della costruzione di una convivenza civile migliore qual è per l'appunto il principio di eguaglianza. Attenti che non sta declinando nel nostro mondo, nel mondo, sta declinando in alcune società e se declina in alcune società è segno di declino di quelle società, non di una strada che il mondo ha scelto contraria all'eguaglianza, all'opposto. L'eguaglianza da quando gli esseri umani l'hanno scoperta, e sono secoli e secoli da quando l'hanno scoperta, non ha fatto che progredire, che assumere nuovi significati e avere una nuova ed allargata arena di persone che ne pretendono l'applicazione a sé medesimi. Insomma, questa è una vicenda che noi ricordiamo qui oggi, abbiamo ricordato parlando di una dichiarazione dei diritti dell'uomo che venne fatta dalla borghesia francese fondamentalmente per sé stessa, quando giustamente pretese di assumere le redini della società alla quale contribuiva più di ogni altra. E poi si è venuta allargando ai ceti inizialmente esclusi delle società, nelle quali si era venuta fermando attraverso l'industria, l'economia del nostro tempo, e ora in questo secolo e nella seconda parte del precedente si sta allargando al mondo intero, si allarga in questi giorni attraverso richieste che vengono in paesi dove prima tutto veniva accettato ed è dall'America Latina all'Asia al Medio Oriente la domanda che sta sconvolgendo il mondo. Attenzione, a volte travestita da panni ideologici che la rendono irriconoscibile, ma fondamentalmente è sempre una domanda di eguaglianza. Ci sono anch'io, anch'io ho gli stessi diritti e l'eguaglianza gli esseri umani l'hanno sempre intesa prima ancora che come uguale trattamento, uguale titolarità delle stesse libertà e degli stessi diritti. Non ne possono esistere per alcuni che non esistono per altri. In questo senso è storicamente giusto che l'eguaglianza sia nata come eguaglianza formale, come qui è stato ricordato, eguaglianza perciò di un diritto che è diritto di tutti e non diritto di ceti, ma già in questo di tutti è ancorata necessariamente alla cittadinanza l'eguaglianza e la cittadinanza diventa un grande spazio nel quale finiscono per confluire nobili e non nobili, commercianti e servi, ma esclude coloro che non sono cittadini. Ecco, l'eguaglianza è un fattore di equalizzazione, ma è anche un fattore di inclusione e esclusione e dalle dichiarazioni dei diritti del cittadino si passerà a quelle che investono in primo luogo la persona e non il cittadino e le costituzioni del nostro tempo. Sono costituzioni, spesso ce ne dimentichiamo, in cui quattro quinti dei diritti sono riconosciuti alla persona, non al cittadino che non sempre riconosce la persona nel non cittadino e tantomeno è in grado di riconoscerla quando il non cittadino è un illegale trattato spesso più a mo' di cosa che a mo' di persona. E poi dall'eguaglianza formale viene fuori necessariamente l'eguaglianza sostanziale perché l'eguale trattamento può portare a non tener conto delle differenze che ci sono e che rendono quell'eguaglianza formale una diversità fattuale che non cancella la diversità. L'esercizio che noi siamo chiamati a fare da 50 anni, da 60 anni a questa parte è proprio quello di muoverci tra eguaglianze apparenti e diseguaglianze di fatto, tra diseguaglianze intollerabili e diseguaglianze necessarie. È un esercizio difficile, al quale è chiamata in primo luogo la giurisprudenza perché il legislatore spesso crea eguaglianze e diseguaglianze in ragioni della forza elettorale dei gruppi che pretendono questo o quel trattamento e quindi sulla base di parametri ben diversi da quelli costituzionali ed è bene che su questo terreno venga portata l'attenzione dei nostri giovani nel viaggio in Italia e mi aspetto che attraverso questi vari capitoli si riescano a entrare gli interlocutori nelle problematiche effettive su cui si determinano eguaglianze e diseguaglianze. Guardate, è un'operazione non facile che coloro che non sono addestrati non sempre riescono a cogliere nei suoi significati effettivi. Permettetemi due banalissimi esempi tutti i comuni al di sotto dei 500 abitanti hanno titolo a non più di due uffici postati e chi può protestare se uno la mette così ma tiene conto una norma di questo genere del fatto che esistono comuni di pianura nei quali i 500 abitanti sono tutti raccolti in uno spazio limitato e i comuni che scollinano tra una montagna e l'altra che hanno un territorio molto più ampio nei quali due uffici postali possono essere irraggiungibili per tre quarti di questa modesta popolazione ecco, allora come ci si regola davanti ad un problema del genere? tutti hanno diritto di non lavorare la domenica certo, se la loro religione è quella che indica nella domenica il dì di festa ma se la loro religione è un'altra e il dì di festa è il venerdì o il sabato beh in Italia generalmente se la cavano tutti sul weekend ma poi ogni tanto arriva l'unità nazionale e vi dà un ponte che altrimenti non avreste avuto ma al di là di queste circostanze il problema nella sostanza esiste e allora c'è il tema delle discipline differenziate per realizzare eguaglianza discipline differenziate per realizzare eguaglianza e a quel punto sorge la domanda ma quali sono le differenziazioni che realizzano eguaglianza e quelle che realizzano invece diseguaglianza a che punto può arrivare la diseguaglianza del carcerato è giusto che i giovani vengano chiamati a rispondere a questa domanda perché io sono certo che alcuni anni fa nessuno avrebbe avuto il minimo dubbio in Italia sul fatto che il carcere priva legittimamente della sola libertà personale della libertà di muoversi ma non di altre libertà e di altri diritti siamo sicuri che è ancora così siamo sicuri che le carceri che abbiamo non privano oltre che della libertà personale anche di altre prerogative della persona e se così è non stiamo violando uno dei principi fondamentali del nostro vivere comune per non parlare ci torno perché c'è bisogno di tornarci sull'immigrato che non è cittadino quali sono i diritti che non ha ce lo ricordiamo che gli unici diritti che non ha in quanto non cittadino sono quelli che attengono appunto alla partecipazione politica ma tutto il resto previsto dalla Costituzione gli o le spetta sono grandi questioni queste che non va bene vengano affrontate soltanto attraverso grandi discorsi come quelli che stiamo facendo oggi sull'eguaglianza ma che debbono essere affrontati nel concreto per rendersi conto che gli esseri umani concreti sono uguali e non che i principi che ne parlano sono belli e commoventi e infine il tema che noi abbiamo quello delle eguaglianze e diseguaglianze sul territorio di un unico Stato nazionale il federalismo io ci credo moltissimo che il federalismo può rendere più uguali che abbiamo diritto non ad essere trattati tutti da un'unica legge centrale allo stesso modo ma tutti nell'ambito della comunità nazionale di organizzarci così come corrisponde meglio alle nostre attitudini specifiche alle nostre qualità era quello che scriveva Cattaneo aveva ragione anche se al suo tempo probabilmente sarebbe stato impossibile attuare il suo disegno perché era troppo debole lo Stato nascente per permettersi di non essere centrale ma sono passati 150 anni ma ce l'abbiamo ora la forza? la forza ce l'abbiamo se ci riconosciamo tutti come italiani la forza di un'organizzazione federale non è la forza coercitiva dello Stato è la forza delle coscienze che si riconoscono in un'unica identità nazionale se noi sappiamo dare a noi stessi questa garanzia quella è l'organizzazione migliore e speriamo di essere capaci di darcela Presidente grazie al Presidente Amato che ha concluso da par suo questa credo di poter dire bella iniziativa ringrazio nuovamente Roberto Garofoli i Presidenti Bertinotti e Violanti i Professori Fioravanti, Luciani e Torchia e tutti quanti voi per aver onorato con la vostra presenza questa iniziativa grazie grazie